Si è chiusa la stagione del Moto Mondiale a Portimao, c'erano due titoli ancora da assegnare nelle varie categorie, Moto2 e Moto3 dovevano ancora incolonare il loro vincitore e finalmente abbiamo il risponso. Nea Bastianini e Albert Arenas sono i campioni della Moto2 e della Moto3 2020 ed è proprio da qui che parte l'ultimo episodio stagionale del Racing Podcast per quanto riguarda ovviamente la categoria del Moto Mondiale. Partirò con il Mondiale Moto2 e poi passerò al campionato Moto3 per poi chiudere con la MotoGP che comunque ha avuto anche lei la sua ultima gara seppur appunto il campionato fosse bel che concluso. Parto dalla Moto2 a parlarne perché è il Mondiale che mi ha coinvolto di più da tifoso perché c'era un pilota che si stava giocando il Mondiale per cui io facevo il tifo che poteva vincerlo e ce l'ha fatta ovvero il bestia di Rimini Enea Bastianini. L'avete visto anche dal titolo io sono un gran tifoso di Bastianini lo seguo fin da quando ha esordito in Moto3 oramai 6 anni fa se non sbaglio. Bastianini si è ritrovato in una condizione di leader un po' inaspettato considerato che appunto il pilota riminese non è mai stato famoso per le sue grandi vittorie dominando gli avversari ma è stato comunque un pilota di gruppo un pilota di lotta un pilota che comunque si piazzava dove più contava quando aveva la possibilità di lottare per il podio e per la vittoria. È arrivato in questa gara di Portimao in una condizione di vantaggio aveva da gestire un però parterre di piloti veramente molto competitivo perché c'è stato Luca Marini che comunque era un pilota che poteva vincere da quella gara ma non l'ha vinta. C'era Sam Lowes il pilota probabilmente più eroico più stoico della Moto2 che ha corso due gare questa a Portimao su un livello poi sontuoso con una mano rotta e Lowes ha fatto podio. Bastianini ha fatto una gara che inizialmente sembrava d'attacco poi è stata una gara di sofferenza non aveva il passo degli altri il best di Rimini non avrebbe mai vinto in realtà. Questa gara di Portimao in ogni caso il vantaggio che è accumulato alla fine è servito al pilota riminese per vincere il titolo del mondo il primo della carriera e per ora unico in Moto2 considerato che l'anno prossimo andrà in Ducati Team Avintia insieme a Luca Marini. Il best di Rimini corona il sogno di una vita corona il sogno di me tifoso del bestia sono veramente contento è stata una gara che mi ha diciamo tenuto molto molto attaccato allo schermo è una gara che veramente l'ho vissuta tanto perché io appunto tra i tre italiani e Sam Lowes che si giocavano il mondiale io tifavo spudoratamente per il bestia per una volta posso fare un video meno da analista tra virgolette seppur appunto amatore ma da tifoso. Il bestia se lo merita è un titolo che comunque è maturato con il ruolo di marcia che adesso noi andiamo a vedere ha vinto per tre volte in questa stagione è un numero che in un campionato di base non è moltissimo ma per uno come il bestia è sicuramente tanto considerato che come dico sempre Bastenini è più un piazzato che un vincente. Il vantaggio in realtà è di nove punti su un altro italiano Luca Marini e poco meno anzi in realtà sono gli stessi punti su Sam Lowes che appunto in questa gara fa podio ma in condizioni veramente precarie a un certo punto Sam Lowes poteva addirittura vincerlo questo campionato del mondo qualora fosse stato in grado di arrivare primo. E invece deve accontentarsi di un secondo ex equo con il fatello di Valentino Rossi per la cronaca secondo me Sam Lowes per l'anno prossimo sarà un serio pretendente al titolo della Moto2. Bastianini è un pilota che ripeto l'anno prossimo andrà in MotoGP e lascia la Moto2 nel migliore dei modi con un mondiale vinto con tre vittorie all'attivo Andalossia, Berno e Misano gran premio dell'Emilia Romagna e altri podi in particolare quattro con Qatar, San Marino, Teruel e Aragon. Quindi in totale sette podi su quindici gare comunque non sono pochi considerato appunto la situazione e il contesto per il quale il mondiale Moto2 è stato costruito e così come tutte le altre categorie. C'è stata anche una gara in realtà della Moto2, una gara che è comunque storica perché per la prima volta in carriera vince Remy Garner figlio di Wayne, per la prima volta in carriera per il pilota australiano suona Advance Australia Fair, lino nazionale australiano. Garner ha avuto la meglio di Marini, Garner partiva anche dalla pole, era la terza quest'anno, non aveva mai vinto prima di oggi. Garner a un certo punto sembrava essere escluso dalla lotta per la vittoria ma poi con il passo gara che ha dimostrato è riuscito a superare Luca Marini e Tegiri dalla fine a portarsi a caso una vittoria che per lui conta in realtà relativamente. Considerato che anche l'anno prossimo Garner sarà in Moto2 con il team Red Bull KTMI o quindi un signor team conta in ottica mondiale perché effettivamente con Marini primo il vantaggio di Bastini sarebbe stato ancora più risicato di 9 punti e invece con Marini secondo il best di Rimini ha vinto il campionato del mondo con sui 9 punti di distacco. Il pole lo comprendono appunto Luca Marini che comunque ha fatto una signora gara, onestamente la poteva vincere e avrebbe meritato di vincerla. Il pilota marchigiano, il problema è che appunto Bastini facendo una gara di conserva è riuscito a ottenere quel piazzamento che bastava per ottenere il titolo del mondo. Il terzo è Sam Lowes, pilota veramente esperto della categoria Moto2, un pilota che fino al Gran Premio del Teruel io avevo detto avrebbe vinto il mondiale senza se e senza mai. Il pilota più in forma dal Gran Premio d'Europa in poi, complice la caduta prima del Gran Premio d'Europa quindi Valencia 1, il 14esimo posto soprattutto in gara Valencia 2 con anche lì la mano rotta. Insomma è stato quello probabilmente il là che ha permesso a Bastini di avvicinarsi al mondiale e anche agli altri italiani in particolare Marini. Il terzo posto di Lowes è qualcosa secondo me di incredibile a suo modo, in ogni caso complimenti a Sam e attenzione ripeto a lui l'anno prossimo per il mondiale Moto2. I primi due della classifica quindi Enea, Bastini e Luca Marini andranno invece in MotoGP insieme a Jorge Martin. La Moto2 l'anno prossimo rimarrà come un campionato di altissimo livello così come la Moto3. Una Moto3 che anche in questo caso ha avuto il suo vincitore, il suo campione ed è Albert Arenas, il pilota che qui vedete inquadrato nei festeggiamenti ha avuto la meglio sulla concorrenza. Anche qui è stata una gara veramente allucinante, Moto2 e Moto3 hanno offerto delle gare pazzesche e alla fine il pilota probabilmente più quotato in entrambe le gare vedendo l'ultimo appunto andamento è riuscito a portare a casa il titolo del mondo. A differenza magari di altri campioni però Arenas sfrutta diversi fattori. È il pilota che in questa stagione Moto3 ha vinto di più però nelle ultime competizioni era molto in difficoltà e vincere un titolo in difficoltà di certo non è proprio un buon viatico. Di certo c'è che il rimpianto in realtà non è per Arenas che comunque ha meritato di vincerlo perché comunque come sempre si dice i mondiali se li vinci difficilmente non sono meritati. Ma diciamo Arenas deve anche ringraziare le debacle di altri piloti che sono stati più diciamo sulla carta pretendente al titolo dello spagnolo che comunque anche lui abbandona la categoria da campione regnante e andrà l'anno prossimo in Moto2 sempre con lo stesso team, il team di Aspar Martinez. È una gara stata diciamo una gara folle da certi punti di vista perché il vincitore è Raul Fernandez altro pilota molto bravo e molto talentuoso. Ne lo sentiremo parlare ha vinto con un distacco pazzesco di oltre quasi 9 secondi e non mi ricordo un dominio così dai tempi probabilmente di Martin o anche del primo Danny Kent. Fernandez fa quello che vuole nonostante questo finisce quarto in campionato. Il rimpianto più grande secondo me ce l'ha quest'uomo ovvero Tony Arbolino che perde il titolo del mondo insieme ad Ayugura per 4 punti. Arbolino in realtà era superiore rispetto a Ayugura sulla carta in ogni caso il punteggio per l'italiano e il giapponese sono gli stessi. Arenas vince con solo 4 punti di vantaggio finendo mestamente direi 12esimo al termine della gara di Portimao ma è comunque lui il campione del mondo della Moto3. di quest'anno e succede a Lorenzo Dallaporta che lo vinse lo scorso anno. Arenas è un pilota che comunque vi dicevo ha quello che ha vinto di più il problema è che non mi ricordo un pilota che abbia vinto un mondiale con ben 4-0 l'attivo e una squalifica anche. Il gran premio d'Europa della prima gara di Valencia. I rimpianti sono più che altro per Ogura che non è riuscito a centrare una vittoria in questa stagione e nonostante questo ha fatto i punti di Arbolino quindi 170 il rimpianto più grande è effettivamente di Tony Arbolino perché non per colpe sue non ha disputato la gara di Aragon 1 ed evidentemente uno 0 deciso per un contatto di Arbolino con un positivo in un volo Parigi Milano lo ha praticamente costretto a perdere un titolo del mondo a ragione di logica. È un grande rimpianto Arbolino secondo me meritava più di Arenas di vincere un campionato nel mondo anche Fernandez era un pilota che meritava di più e invece ha vinto molto meno di quanto si potesse aspettare il 25 che comunque ha fatto una signora gara perché vincere una gara di Moto3 con 9 secondi di vantaggio è veramente qualcosa da fenomeni e di talento puro come appunto è Raul Fernandes uno dei miei piloti preferiti onestamente di questa Moto3 l'anno prossimo Fernandes invece andrà in Moto2 per lui suona la marcia reale del nazionale spagnolo il podio comunque lo completano Dennis Foggia e Jeremia Alcoba su Dennis Foggia va fatto una menzione perché insieme al compagnolo di squadra Jaume Masia del team Leopard è riuscito ad arrivare secondo con due penalizzazioni roba veramente non da poco e festeggiamo il primo podio in carriera per Jeremia Alcoba del team Gresini quindi onda per lui al primo podio della carriera su una pista che conosceva già ci ha corso nel Cev è veramente un mondiale di Moto3 che è stato veramente tirato un mondiale che forse non ha vinto il pilota migliore ma ha vinto il pilota che ha portato a casa più vittorie evidentemente nella prima parte della stagione a differenza magari di qualche altro pilota in MotoGP vedi per esempio Quartalaro il vantaggio accumulato di Arenas nelle prime gare è riuscito evidentemente a gestirselo fino alla fine e non perderlo come ha fatto il pilota francese parliamo adesso della MotoGP dopo che abbiamo celebrato i due campioni del mondo Arenas e il bestia di Rimini soprattutto il bestia di Rimini passiamo alla MotoGP dicevo perché c'è una cosa oltremodo storica perché al primo Gran Premio del Portogallo a Portimao vince un portoghese Miguel Oliveira che anche lui fa una gara suntuosa una gara da dominatore assoluto è venuto dalla pole ha imposto il suo passo andava più veloce di tutti gli altri nessuno è riuscito a prenderlo Miguel Oliveira ha salutato la compagnia e se ne è andato e l'abbiamo rivisto semplicemente al traguardo e qui lo vediamo al termine dei festeggiamenti della gara del Portogallo è la seconda vittoria in stagione per Oliveira per lui risuona l'inno nazionale portoghese che banalmente si chiama A Portuguesa e veramente conclude una stagione incredibile con la KTM clienti Oliveira l'anno prossimo andrà in KTM ufficiale una moto che è cresciuta molto attenzione alla causa austriaca per l'anno prossimo una gara di MotoGP che in realtà è stata interessante per le posizioni che in realtà contavano meno cioè quelle del podio ancora una volta si è rivisto il duello tra Franco Morbidelli e Jack Peter Miller con l'australiano che ha la meglio del pilota italiano quindi secondo il pilota Ducati Team Pramac e terzo il pilota della Yamaha SRT ancora una volta il faro di questa Yamaha che ci ha capito pochissimo anche in questa gara di Portimao perché gli altri piazzamenti che appunto poi vedremo hanno relegato le Yamaha veramente in fondo alla classifica e come mi piace dire after the music ci sono piazzamenti comunque di un certo livello e li andiamo a vedere a partire dal quarto posto di Polizio Spargarò che lascia la KTM con un altro piazzamento tra i 5 segno che la casa austriaca sarà ancora una volta una moto interessante l'anno prossimo e il team ufficiale KTM avrà Binder Oliveira coppia interessantissima che ha già corso insieme in Moto2 qualche anno fa quinta posizione per Takahaki Nakagami ancora una volta la migliore onda in pista in contumacia di Alex Marquez sesto Andrea Dovizioso che lascia la Ducati e probabilmente anche la MotoGP purtroppo a partire da domani settima posizione per un pilota leggendario ovvero Stefan Bradl il collaudatore della Honda che si attiva Mark Marquez che ha fatto veramente una signora figura quest'oggi ottava posizione per Alex Spargarò con l'Apriglia che di fatto da solo fa una gara molto interessante per le posizioni della sua moto non a posizione con Alex Marquez che fa di fatto il ruolo della terza onda in pista e chiude la top 10 Johan Zarco con la Ducati del team Avintia Zarco cambierà team l'anno prossimo andrà in team Pramac al posto di Miller e Bagnaia che saranno i piloti ufficiali l'anno prossimo i piloti italiani ne abbiamo già parlato con Morbidelli che ha fatto top 3 Dovizioso che ha fatto un discreto sesto posto viste le potenziali di questo Ducati che ha fatto molta fatica gli altri italiani li abbiamo detto Danilo Petrucci fuori dai punti 16esimo gara anonima per lui gara anonima l'abbiamo detto per la Yamaha e ci mettiamo di mezzo anche Valentino Rossi che fa un 12esimo posto senza infamia e senza lode Lorenzo Salvadori ultimo italiano in gara ancora una volta ritirato 3 gare in MotoGP per l'ex pilota Superbike non benissimo ma comunque non ci si poteva aspettare secondo me molto di più dal numero 32 apro una parentesi c'è stato il ritorno leggendario del finlandese volante Micacaglio che a 38 anni sostituisce Iker Lecuono su KTM Clienti e fa un non è 16esimo posto ma comunque non è lui il mio rider del giorno evidentemente il premio del rider del giorno non lo voglio dare né a Oliveira che ha fatto una gara sontuosa né ai due sul podio Miller e Morbidelli ma lo voglio dare a un pilota che ho già citato ovvero per la MotoGP Stefan Bradel perché da collaudatore si è ritrovato a fare una stagione per intero considerato l'infortunio di Mark Marquez quindi una cosa inaspettata per uno come lui i collaudatori di solito fanno qualche wildcard nel corso della stagione quindi non corrono tutte le gare ma ne correranno tre o quattro al massimo Bradel riesce nell'impresa di risultare la onda ufficiale migliore in pista battere Alex Marquez che dunque torna sulla terra nei risultati che gli competono e Bradel lascia questa stagione 2020 con una buona prestazione e di fatto è una prestazione in crescita perché nelle ultime quattro gare Bradel ha fatto punti ed è un collaudatore onestamente secondo me non ci può aspettare nulla di più c'è una delusione del giorno comunque da dare in questa gara di Portimao che per la MotoGP contava veramente poco ed è il campione del mondo regnante ovvero Juan Mir in realtà la Suzuki in generale non ha dimostrato di essere la moto migliore in pista a Portimao Rins ha fatto pietà e anche Mir si è ritirato anzitempo per un problema tecnico quindi in realtà non è tutta colpa di Mir questa prestazione è abbastanza sottotono diciamo che il pilota spagnolo ci ha messo del suo perché in qualificazione è partito in ultima fila e partendo indietro di solito sei sempre più coinvolto in dinamiche di gruppo che di solito i piloti di testa ovviamente non competono comunque Mir può diciamo non rammaricarsi più di tanto visto che comunque il titolo del mondo aveva già conquistato la settimana scorsa titolo peraltro meritato essendo comunque il pilota più costante di questa MotoGP e dunque il Racing Podcast sul moto mondiale è concluso ci sarà comunque l'appendice solita del pagellone che uscirà giovedì sempre alle ore 19 intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast vi lascio ancora una volta con le immagini della MotoGP che ha concluso il suo campionato vi lascio con le immagini della classifica della Moto3 con Albert Arenas campione primo titolo in carriera primo titolo in carriera anche per Enea Bastini con la Moto2 e ancora una volta l'Italia in questa categoria ha un campione del mondo dopo Bagnaia e Morbidelli il saluto da parte di Meteotorger ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri